Un piccolo anabito. Allora un giorno trovo in santuario una nonna, una nonna anziana seduta su un banco che guardava la Madonna. Mi avvicino a questo bel volto sereno e gli dico buongiorno nonna, buongiorno padre. Come sta bene? Lei come sta bene? E poi fa silenzio e guarda la Madonna e poi mi dice perché mi piace questa Madonna e poi? Anche perché mi piace? Perché è giusto? Maihna anegdota. Pater se nekaj mesi že v Svetišču z Babico, ki je sedela v Crkveni klopi in gleda na Marinkip, Marijo, sedečo z Jezuškom na prestoru. In Dio je pra, io je pozdravio, dober dan, babica, dober dan, Pater, io odgovorila. Ma veste, Pater, kaj creda? Vedam to Marijo, ki sedi, ki se svoja mottročičko na prestoru in veste da mi usce. Si, che si è seduto, quindi non affetta e può scontare tutte le mie sofferenze. Pa trova da dire, za kaj Papa mi usceci? Zagate tega, ker si ne mudi in posluša vse moje besede in vse moje molitve. Ecco, questa robatezzata, la prejave il cuore, il nome della testa. Nekako poimenovao sem to molitev srca, ne glave. nekako poipo vse, ne glavite le punoame, di vesterče, ne glavite boa.